Bentornati alla quinta parte del gameplay di The Legend of Zero A New Beginning Ok, adesso ci dirigiamo verso il prossimo luogo, che è il ghiaccio per scoprire il potere del fuine e se troviamo il drago, trovando il drago faremo l'allenamento come quello di prima solo che scopriremo delle altre mosse ecco, questa è una delle parti che ho oggi di più perché se non siete bravi a schivare, facendo così perderete un sacco di volte infatti io questo video l'ho fatto un sacco di volte e allora se siete bravi a schivare, sarà facile per voi grazie a tutti 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 ok, finalmente siamo arrivati è andata bene questa volta ok, in questo posto si chiama Ghiacciaio di Dante ed è un luogo ricco di Ghiaccio con dei nemici forti che li caratterizzano, cioè sono questi ok, abbiamo imparato questa nuova mosse e la possiamo potenziamento con dei nemici forti e la possiamo potenziare sempre raccogliendo le gemme le gemme blu usiamo questo per buttare più per buttare più perché ti voli ecco, maniccia in questa parte, in questa parte, bisogna dare un colpo all'albero e cavano delle palle di neve bisogna trasportarle nel cannone che si troverà lì vicino e lo colpo all'albero e lo colpo all'albero e lo colpite di nuovo e andrà nel posto in cui di rendere e lo colpo all'albero ok, nella prossima parte vi farò vedere come configgere quel mostro alla prossima alla prossima